La consulta vi ha prima rimandati e poi bocciati, ci avete tenuto qui due settimane sprecando tempo e denaro dei piemontesi, ve l'avevamo detto, abbiamo impegnato noi il tempo che voi avete tolto i piemontesi per dirvi che vi stavate sbagliando, non ci avete ascoltato e il segno di questi primi 8-10 mesi di questa legislatura è noi che vi parliamo, voi che non ascoltate è il mondo là fuori che vi boccia, siete bocciati Presidente? Prego togliete quei cartelli, non fatemi fare quello che sono realmente perché se no mi devo alzare io a toglierli di peso, di porta